Tampone obbligatorio per chi arriva da Grecia, Croazia, Malta e Spagna. L'impennata dei casi di contagio di rientro dall'estero, numerosi quelli registrati anche nell'aretino, ha spinto il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare una nuova ordinanza che impone test obbligatori per chi arriva da questi quattro paesi. Ha aggiunta poi anche la Colombia ai paesi per cui è previsto il divieto di ingresso. Il provvedimento è stato annunciato dallo stesso ministro con un post su Facebook. Una stretta anti-covid che arriva a qualche ora di distanza dall'ultima ordinanza regionale firmata dal governatore della regione toscana, che va di fatto nella stessa direzione. L'ordinanza del presidente Enrico Rossi infatti stabilisce che venga offerta la possibilità di effettuare gratuitamente il test amolecolare per la ricerca del nuovo coronavirus ai viaggiatori che arrivano o tornano in Toscana dai paesi dell'Unione Europea e dallo spazio Schengen a livello nazionale invece resta aperto il capitolo discoteche. L'ordinanza della Toscana interviene però anche su questo aspetto, imponendo all'ingresso delle discoteche che i gestori provvedano a far misurare la temperatura con il termoscanner a tutti e in caso di febbre superiore ai 37 gradi e mezzo, nel locale non si potrà entrare. Infine, l'ordinanza prevede la registrazione di chi entra a ballare con la conservazione dei dati sino a 14 giorni.